Considerando l'aumento degli attacchi informatici in settori critici come la sanità e la manifattura, come può l'intelligenza artificiale essere utilizzata per migliorare le misure di cyber security, in particolare nella rilevazione e risposta a questi attacchi che colpiscono in modo così efficace in particolare le vittime in Italia? Quali sono i vantaggi e le limitazioni dell'integrazione dell'intelligenza artificiale nelle strategie di sicurezza informatica in questi settori? I criminali, credo che sia sotto gli occhi di tutti, hanno già iniziato a usare l'intelligenza artificiale da cula generativa per creare mail di phishing più credibili, in alcuni casi addirittura dei deepfake per perpetrare i loro attacchi e le loro truffe e contemporaneamente l'intelligenza artificiale non generativa per identificare i target, identificare gli attack path e poter evadere le misure di sicurezza e di rilevamento. Quindi diventa oggi indispensabile, visto la maggiore velocità e precisione con la quale certi attaccanti sono in grado di perpetrare le loro azioni, dotarsi degli stessi strumenti per poter identificare questi tentativi di attacco, poterli fermare, prevenire o contenere qualora accada qualche cosa, quindi aumentare la capacità di detection nei due settori citati ma anche in molti altri settori. Quindi sicuramente diventa un alleato indispensabile perché ormai anche nella organizzazione di medie dimensioni la complessità, la quantità di sistema, di sistemi da gestire, la quantità di log da analizzare, di eventi da correlare ha superato una soglia per la quale l'essere umano con la sua velocità e la sua soglia di attenzione non è in grado di processare quelle enorme mole di dati, soprattutto non è in grado di farlo alla stessa velocità con la quale gli attaccanti si possono muovere. Quindi per rispondere ad attacchi che vanno alla velocità della macchina ci vuole una risposta che vada alla velocità della macchina per poterli contenere in maniera efficace. Grazie 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 Grazie